Anniversario dell'ordinazione pescovale Monsignor Lomanto, proseguiamo il cammino insieme nella luce della fede. Dopo aver contemplato Maria nella sua maternità divina e nel suo consegnarsi senza riserva al disegno del Padre, rivolgiamo adesso lo sguardo su Lucia, modello di feguità e di testimonianza cristiana, avendo come orizzonte la celebrazione dell'anno santo del 2025. La nostra amata chiesa seragusana si dispone ad accogliere e venerare per la terza volta dopo i due ultimi decenni la reliquia del corpo della Vergine Martire Lucia. In linea con l'anno mariano continuiamo a camminare insieme crescendo nella luce della fede e nella testimonianza della carità. Viviamo il cammino senadale, l'anno mariano e l'anno luciano come tempi di grazia per la nostra salvezza, per crescere nella luce della fede, nella santità di vita e nell'esercizio della carità che ci salva. Ieri sera l'Arcevesco di Siracusa, Monsignor Francesco Lomanto, ha preso tutta la celebrazione eucaristica nella Basilica Santuario della Madonna delle Lacrime, nel terzo anniversario della sua ordinazione episcopale e ingresso nella nostra diocesi. All'inizio della celebrazione, il vicario generale Monsignor Sebastiano Menta ha rappresentato il senso di gratitudine dell'intera Chiesa di Siracusa per il dono dell'Arcevesco Francesco e ha pregato Dio Padre con le parole della liturgia perché assiste il nostro pastore e le comunità affidategli perché non manca al greggio la sollecitudine del pastore e al pastore la docilità del suo greggio.